così ho quasi fatto io ho creato la super mega ultra papera salterina di plastica che sputa a fuoco no niente applausi tranquilli grazie grazie ma chi prendo in giro fa schifo mia figlia mi sta chiamando ciao charlie no no così fa schifo e da anni che non chiamava deve essere perfetto ehi la troia ciao papà ciao come stai dove 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 stai in questi giorni lo sai dove sono papà te l'avevo già detto ma sì sì beh beh sai perché io te l'ho detto quando mi hai chiamata cinque mesi fa non mi ascoltavi no 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 solo che me ne sono dimenticato perché sono molto impegnato con cose importanti beh devi sapere che gestisco un hotel per edimere peccatori magari hai visto lo spot devo essermelo verso non guardo molta tv ultimamente mi indaffinare il cervello ma è un hotel forte senti papa ho un favore da chiederti certo esaudirò ogni tuo desiderio chiediti sarà dato devo incontrarmi con il paradiso con un loro vero rappresentante non con quello stronzo di adamo un vero pezzo grosso o no 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 papà non ti chiedo molto non l'ho mai fatto ma questo questo è molto importante per me è la cosa più importante che abbia mai fatto e ho bisogno di te del tuo aiuto beh non so charlie per favore solo vieni a vedere cosa sto cercando di fare capirai che è un'ottima idea e il paradiso sicuramente accetterà se potrò spiegarglielo ti prego aspetta tu mi stai invitando da te assolutamente sarò lì fra un'ora mia figlia vuole vedermii prendi questo depressione